Meetup Grilli di Agrigento stamane convoca un momento di incontro con i giornalisti per chiarire una vicenda. Sì, praticamente la vicenda che abbiamo noi saputo dall'organo di stampa che riguarda un attivista del Meetup Valle dei Templi e Agrigento 5 Stelle. L'articolo parlava di un utilizzo del movimento per i suoi scopi personali, denunciava questa vicenda che riguarda la creazione di un centro di accoglienza per minori e che questo nostro attivista è andato a fare un'intervista presso una televisione locale dove in effetti non parlava che la vicenda lo riguardava personalmente ma era come se fosse stato, come se il movimento denunciasse delle irregolarità al comune di Agrigento. Cosa che non è vera e lui ha portato con sé altri attivisti, ha portato con sé un deputato regionale, un portavoce regionale. Sicuramente noi siamo convinti che con questo deputato regionale non è stato messo a conoscenza dei reali fatti, che in effetti è stato tenuto all'oscuro di quelle che erano le reali intenzioni di questo attivista e noi siamo qui appunto per chiedere a questo attivista che è candidato a sindaco per le amministrative di fare un passo indietro perché ne va del buon nome del movimento. La gente non può, naturalmente, gli attivisti, i simpatizzanti e gli elettori, concepire un atteggiamento del genere che è vicino alla vecchia politica. Alla luce del fatto che è accaduto, voi delle meet-up grilli di Agrigento, cosa proponete? Noi a questo punto proponiamo che il candidato sindaco Dalli Cardillo faccia un passo indietro per il bene del movimento, nonché che venga ufficializzata la nostra proposta che già da tempo avevamo avanzato, ovvero la candidatura del componente Aurelio Bruno, dell'attivista Aurelio Bruno, del nostro meet-up grilli di Agrigento, che a nostro parere rispecchia quelli che sono i principi del movimento e può dare insieme a noi una buona amministrazione a questa città.